Le aziende del farmaco non si occupano soltanto di fare ricerca e di sviluppare farmaci. Soprattutto in ambito di malattie rare, queste aziende affiancano anche i pazienti e anche i cargiver. Se ne parla a Roma durante l'evento Rare di Donne nelle malattie rare e noi cerchiamo di capire i progetti di responsabilità sociale di Chiesi Italia parlandone con Giovanni Gigante. Quali sono le iniziative di responsabilità sociale promosse dalla vostra azienda, soprattutto in ambito di cargiver e cargiver donne? Beh, da questo punto di vista possiamo dire che Chiesi Italia nella sua essenza attualmente si porta avanti in una sostenibilità dal punto di vista sociale che la rappresenta. Siamo una delle aziende farmaceutiche B Corp e Società Benefit, anche richiarata in Italia dal 2019, e certificata B Corp e questo già in sé, porta con sé una sua sostenibilità. E la sostenibilità e l'attenzione per le nostre tre P, che chiamiamo Patients, People e Planet, vedono nelle persone la sostenibilità. Tra le iniziative proprio che ci rappresentano a maggior ragione abbiamo ricevuto nel dicembre 2022 la certificazione per la parità di genere. È una delle prime aziende che in Italia riceve questo tipo di certificazione qualificata proprio, che come tutte le certificazioni ha un controllo di qualità questo, che va a testare proprio l'attenzione alla parità di genere. Tra i nostri dipendenti abbiamo circa un 60% di cargiver di sesso femminile e quello che mi preme soprattutto ricordare è quello che l'essenza dell'azienda vuole portare al valore del cargiver, non soltanto in quello che ad oggi si riconosce essere chi ha una 104 o è un cargiver per un paziente che era 104, ma essere cargiver può andare oltre una certificazione della 104. Cargiver per noi è anche il supporto nelle famiglie che sono appena diventati genitori, abbiamo dei programmi dedicati alla neogenitorialità e prendersi cura dei bambini. Cargiver per gli anziani, abbiamo dei programmi dedicati, abbiamo un programma che si chiama ABC Corp, che è proprio un programma dedicato anche a chi si prende cura di persone anziane nel proprio nucleo familiare, quindi estendere il concetto di caregiver a chi si prende cura di qualcuno nella propria famiglia e questo l'abbiamo supportato anche a livello proprio aziendale con una flessibilità lavorativa, l'implementazione dello smart working, l'implementazione della flessibilità di orario, di avere delle possibilità di essere più elastici, lavorativi, soprattutto la possibilità di avere il giusto tempo allocato per le persone del primo bisogno, ma siamo andati anche oltre, abbiamo offerto pacchetti dedicati con supporto alle persone, abbiamo un supporto psicologico che viene fornito in maniera indipendente e anonima su richiesta di chi ne ha bisogno, abbiamo dei master dedicati con dei corsi per come aiutare le persone nel proprio nucleo familiare, quindi la nostra sostenibilità si ritrova proprio in quello che è l'aspetto nostro di rispondere agli SDG, quindi sustainable goal per l'agenda 2030 e rispondiamo a questo proprio anche soprattutto con la parità di genere.